Il caccia all'uomo nell'ennese dove da ieri si cerca Guilmo Ruisi, 51 anni, artigiano di Val Guarnera, caro Pepe, sospettato di aver ucciso Salvatore Roberto Scamacca, 47 anni. La vittima, un operaio edile intorno alle 10.45 di ieri, è stata raggiunta da diversi colpi di pistola, mentre transitava sulla propria auto una Fiat 1 lungo via Archimede a Val Guarnera. Colpito a morte, ha perso il controllo dell'auto che ha travolto e ferito un commerciante ambulante ed una donna di 86 anni, soccorsi dai sanitari del 118. Inizialmente le loro condizioni non avevano destato preoccupazione. La donna era stata trasferita all'ospedale Santeria di Caltanissetta, dove però, espirata in serata, l'altro ferito invece starebbe già meglio. Dopo i primissimi accertamenti, sotto il coordinamento dei magistrati della Procura della Repubblica di Enna, presenti sul posto, i sospetti dei carabinieri che indagano sul delitto si sono subito concentrati su Ruisi, con il quale, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la vittima avrebbe avuto un diverbio nel corso della mattinata, poco prima di essere uccisa. Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri hanno diffuso la foto del sospettato che potrebbe ancora essere in possesso dell'arma usata per colpire Scamacca, specificando che il 51enne avrebbe in uso una Mercedes CLK di colore blu, targata CY793AW. Valguarnera ancora sotto shock per l'accaduto da ieri e presidiata dalle forze di polizia, che stanno setacciando il territorio circostante per trovare Ruisi.